Il nostro protagonista che oggi è mezzo rincogionito come Samy Che mi vuoi dire? Devi dire qualcosa? Devo dire qualcosa Vuoi dire chi è l'aspetto migliore? Forse non è da gradi Ma quanto mi vuoi bene la Fide? Non sta bene, tanto Sei un angelo Ti voglio bene Rick Anche io ti voglio bene